Burloni, ce lo avete chiesto in un sacco di persone, guardate che cos'ho nell'inventario, ho delle Elytra, ebbene sì ragazzi, oggi caccia l'uomo con l'Elytra, anche loro le avranno, ma una cosa ancora più bella, guardate che cos'ho il primo slot, un arco con solo 350 utilizzi, ma guardate un po', no, no, bravo, sciolta praticamente le persone, in realtà toglie abbastanza, però se si equipaggiano possono sopravvivere, da adesso ragazzi, provo? Sì sì sì, due utilizzi sono andati, dai, buono, è vero, ma annaggia, è brutto schifoso, allora voi ragazzi intanto lasciate un mi piace e consigliateci qualche altra cosa carina da fare, perché comunque questa l'ho letta nei commenti, Alexa, imposto un timer di un minuto, però a te se devo stare fermo un minuto in un villaggio, dovete stare fermi un minuto ragazzi, ma non c'è una scusatele il cibo? Ma perché non c'è il cibo raga? A parte che siamo spawnati direttamente qua ragazzi, quindi è fighissima come cosa, abbiamo deciso di partire direttamente dal villaggio, intanto i letti non ci servono, questo è infiniti, perfetto, mi serve solo questa roba qua, uno Ah perché tu ucciderai l'entadragon con quell'arco? Certo, certo, scusami Allora te ne servo di utilizzi Esatto 3, 4, mancherà tipo pochissimo, quindi vado, devo mettermi su queste qua e queste qua, vado È già partito, guardate Addio Dove sta andando? Addio Ma come se lavora? Me ne vado Ci vedremo, ci vedremo direttamente nel land Facciamo come con Kendali, che vi dico semplicemente quando sono nel land e mi faccio le mie cose con calma Bello, mi piace, molto carino come cosa Ma un altro villaggino carino caruccio no, eh Marci? Oh sì, pianurina, pianurina col villaggino Ma sei il mio? Ne ho trovato anche io uno di villaggio Domenico, secondo me è qua Adesso lo vediamo Non lo vedo in realtà Non penso, perché ragazzi ho un problema, sta laggando un sacco e mi genera le cose veramente con una calma un po' troppo esagerata Io sono nel villaggio con Nico Esatto, ero Ma come siete al villaggio, raga? Anche io sono al villaggio Ma brutti schifosi, ma fate schifo Ma ragazzi siamo tutti in villaggi diversi, scusate Io non sono nessun villaggio L'unico che ha bisogno del villaggio non ce l'ha Evviva No, ti prego, basta Taiga, basta Taiga, ti prego Dammi sto villaggio e daje Uuuuh Bellissimo Bellissimo, bellissimo, raga Bellissimo, ok Però non c'è il fabbro, raga Però almeno da qui posso prendere L'iron golem che mi faccio Il secchiello e vado direttamente nel nether Vediamo un po' se qua c'è qualcosa Sì, anche tu direttamente nel nether, che storia Che devo fare? Spadina, bellina, lagghina, laggatina, laggati Laggati Se vai a chilometri è normale che lagghi Spadina, laggatina Questa è Spadina laggatina si chiama Ha proprio un nome Spadina laggallissima Spadina laggatina si chiama, esatto Guarda, è proprio lei Ciao signor golem, guardi Ok, l'ho preso il golem Ora mi può seguire il signor golem Undo stress Venga Agambiome Ghi dai 5 pezzettini Cos'è meno mi faccio anche lo scudo Per favore Ok, quanti ce ne ha dati? 4 pezzi E' proprio precisi precisi Che mi servono ragazzi Perché mi faccio Il secchiello E mi faccio lo scudo per i blaze Così sto apposto E l'accendino come lo fai? No Ah ah Non me lo dovevi dire Non me lo dovevi dire questa cosa Ti odio con tutto me stesso Ti odio Ma ti ho aiutato in realtà Scusa Magari sei Andato lì E poi Niente scudo Ma non è che ci sono delle ceste strane in questo posto? Eh? Ceste strane in questo posto? No? No eh? Con un po' di ferro dentro No eh? Non credo Ferro? C'è solo pane Ragazzi Piango Qua ci sono le ceste Niente ceste Perfetto raga A me tocca scende Devo prendere questo pezzino di ferro Poi scendiamo di qua Devo prendere il pezzino di ferro Tanto più o meno Il ferro Meno male che non è diamante raga E poi vado direttamente Vado direttamente nel nether Vado direttamente nel nether Io ci sono quasi 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 Interessante questa cosa Mi sono fatto anche il piccone Prima Vamos Di piccone Dammi sto ferro Dammi sto ferro Dammi sto ferro Allora Niente Non mi dà il ferro E niente ferro Io ho trovato un mineshaft ragazzi Vabbè io ho trovato un mineshaft Ho scavato da giù dritto Sono caduto in un mineshaft Oddio stavo pensando allo stronghold raga Vi giuro stavo pensando allo stronghold Magari Sarebbe carina come cosa Oh ferro 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 Tu hai trovato il mineshaft Lo ho trovato il ferro Ma me ne serve un pezzo Uno Due Tre Va bene dai Quattro pezzi Cinque pezzi Me ne porto comunque di scorta Vamos Ce ne sono altri No non ce ne sono altri Devo metterli subito a cuocere Raga che Posso dirlo No non lo posso dire Non lo dico Che Che Ok dico solo che Dico solo Che cosa No no dico solo che La braccia accesa La braccia accesa No No non si dice Perché sto spaccando col piccone Cioè ti rendi Con il piccone Il legno Vabbè Il legno con il piccone comunque Marci Una prova contraria Ferro Ferro Dai Due pezzi Due pezzi ci bastano Facciamo Facciamo lo scudo Facciamo lo scudo Vamos di scudo Almeno lo scudo ce l'ho A questo punto mi faccio anche la spada in ferro Però non mi basta poi Sì no mi basta Sto cuocendo Mi faccio il secchio E mi faccio Anche l'acciarino dopo Perfetto raga Io sto a posto Ora mi serve Trova una pozza di lava Un po' di gravel E io posso anche volarmene via Dai che sei indietro Noi siamo quasi nel nether Io batti Rocco non lo so dove si Io l'acciarino Perché mi sono finiti in aria L'elitra Non ho capito Stavo morendo per sta cosa Porca di quella miseria Vamos a cercare La pozza Di là C'è un altro villaggio C'è il fabbro Adesso lo vengo a scoprire Dopo che ho fatto tutto Evviva Che me ne faccio De l'ossidiana Ma che bello è sto Vabbè Vabbè dai Ti posso dire che tutto sommato Mi sono fatto il menù Nel mettino in ferro Not bad Però a me Sinceramente non me ne frega niente Di questa cosa Mi serve la pozza di Lava 20 razzetti dopo Trovo un altro villaggio Oh una pozza di lava Trovo la pozza di lava Però voglio dire se c'è il fabbro In questo villaggio Non riesco a vederlo veloce 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 Non riesco a vederlo Uh cosa ho trovato Raga c'è un relitto Bello Tu prendilo Vabbè certo Non ci sarà niente Vediamo un po' se mi serve qualcosa È tipo qua sotto Vero E qua Vamos Vediamo cosa c'è Evviva La mappa Evviva Niente Beh questi qua Posso anche prendere Un break Un break Un break Dove mi può Anche l'ho trovata Vedi dove ha dati? Non mi ha messo Chiaramente Non mi sto così Almeno c'ho Una protezione in pelle raga Avete veramente conto Ho la protezione in pelle Bravo Ciao Ho vinto Bravo Ho già vinto raga Ho vinto praticamente al 100% Anche io lo penso Mi sono trovato raga per dire questa cosa No Niente Sono più ferro tipo Ma come Io sei davanti Ah che bello Ho voglia di perdere Raga devo fare il mio portale al mio modo Ok Non odiatemi Va bene Ecco Come mi odiate Perché faccio il portale così No Godo Godo Dai che perdi tutto Non ci so io rendermi a nico Se ti interessa Dai che perdi tutto Non perdo niente Ah già che abbiamo Vi ho messo la keep in vento I brutti schifosi Solo perché Se no ci schientiamo con la cosa Vamos Io ci sono quasi raga L'ho quasi finito tutto il portale Anche se ci metto i miei 20 minuti classici Guarda 20 minuti accademici Li chiamiamo ad ora in poi Quelli per fare il mio portale Ah ci sta 20 minuti accademici Sono onesti Mi stavo buttando nella lava Quella era una buonissima opzione Per la nostra speedrun No non era una buona opzione Perché l'avremmo dovuta rifare Ti rendi conto Se vuoi la rifacciamo No 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 Finché voglio nel nether Nell'end È un conto Eh scusatemi Dai su 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 Dai quasi quasi Senti mi faccio un accetta Raga non ci ho sbatto Di rompere tutto a mano Così 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 Ok abbiamo anche l'accetta Buono Però non ho ancora il nostro fantastico Flint and steel Evviva marci Per cosa stai aspettando a farlo Non lo so nemmeno io Non c'è del flint qua Evviva Ma che devo dire altro Flint 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 Aspetta Aspetta Flint Flint Dai Allora Che cosa devo fare No vabbè È uno scherzo Mi sta pigliando per il sedere raga Tu l'ho trovato Eh guarda quanti Chianti blocchi siete di distanza Ditemi solo i blocchi Guarda Non lo so Così decido Decido se dirvi le coordinate Meno 500 Meno 1700 Meno 300 Meno 500 Perfetto Siamo a 4000 blocchi di distanza Ma cosa Sacco Vabbè nel nether è più veloce Dai nico 4000 no È peggio nel nether È per 8 Nel nether raga Non è diviso 8 È diviso 8 È diviso 8 Sono stupido Non ho messo l'ultimo pezzo Sono un idiota Noi abbiamo Il portalino Cosa vuol dire Il portalino Siete contenti Un sacco Te lo giuro No vabbè Perché comunque C'hai ragione Grazie È la raggia Buddy perché hai craftato Il corpetto Sì Ma dove sono finito Dici un po Dici un po No Sono nel nether Come si c'è nel nether Sì Non avevo capito Allora Gli ho fatti disattivare Gli achievement al campione di nico Ok Non possiamo vedere Bene bravo Ma mi ha costretto Raga è troppo strano Volare nel nether Ho paurissimo di sbagliare Dovrei guardare le coordinate Dove sto andando però Loco Marci Loco Ciao Ciao loco No è che be Perché No Tutto bene Marci No sta laggando aiuto No no guarda io ho tutto a posto Come stai? A posto? Dai niente male te Dai Fortuni da la cucchia Andiamo a fare un giro insieme Fortezza Fortezza Mi condiamo Ok sono full ferro Sono molto fiero di me Ok Sono solo l'oro Quanti Quanti Ho solo blazerod Ho solo blazerod Ok va bene Quanti ne hai di blazerod? Due ne ho Dai ma che bella ragazzi È bellissima È bellissima È bellissima È quella super rara questa vero? Oh penso sì Non lo so Abbiamo come si chiama Basel Lo salto È lontano Ma hai l'elytra Eh ma stai sento la fortezza Vola Siete vicino a me? Dai venite No anche io devo entrare nel nether Sto facendo l'oro Perché ci servono le ender Sai com'è Cioè Andiamo va No con calma nico Ragazzo Ragazzo io Non l'avevo visto questo qua Boba ti facciamo a sfida niente a sto punto Non li troveremo mai più Chi la fai da sola hai detto? Sì sì da solo Signori piglin salve Come state? T'ho posto? No perché ho bisogno di voi pure Oltre a C'ho bisogno di voi insomma Ma ragazzi io blaze lo tengo veramente pochissimi No 12 Tutti quelli che ho ucciso di blaze Dai allora Hey piccoli amici Io ho 4 lingottine No no vabbè perché Non c'è bisogno Non c'è bisogno Non c'è bisogno E non c'è bisogno Perfetto Non rompere Grazie mille Ok piglin sono qua Piglin vieni qua Dammi ste cose Tieni qua Tieni qua Prendi sta roba Buttati dentro No perché Oh Oh buddy cosa hai fatto? No non sono stato io Oh meno male Vai prendi tutto quello che ci va dentro Mi serve l'oro raga Mi serve l'oro Ed io ne ho veramente pochissimo Vi giuro ne ho veramente pochissimo Lì sotto c'è un po' Guarda noi siamo in piedi Siamo quasi per fare il portale tra un po' Come se ci ho trovato il bastione? Ma come è il bastione? Prendi il bastione Ovvio Burloni scusate se entro e vi interrompo così a metà video Purtroppo ho perso 15 minuti di registrazione Perché ho fatto la schermata blu di Windows Come ben sapete se mi seguite su Instagram Le faccio praticamente spesso ultimamente In genere le registrazioni me le salva Questa volta il file era corrotto E abbiamo perso un pezzo di video fondamentale Perché si vedeva che rientravamo nel server Dopo la schermata blu E cadevo proprio nella lava con l'elitra Perché non mi aveva preso il volo Quindi cosa è successo? Sono morto e ho deciso poi di responare Ve lo voglio dire per una questione di trasparenza Che ho deciso di responare per non rifare tutta la speed run da zero Perché sono morto essenzialmente per un bug Quindi niente Voi continuate a guardare il video Tanto non cambia assolutamente niente Ciao Ragazzuoli Sto riattaccando esattamente adesso il video Abbiamo tagliato tutta sta parte raga Perché tanto era inutile Siamo in 1,16,5 Quindi siamo tutti super mega tristi Ok No, no Ho scelto di liste Rimanete lì sotto per favore Ho 31 pezzi d'oro Avevo 31 pezzi d'oro Ender per le mie Allora se con quest'oro Non ricevo neanche un ender perle Me le give Perché No, devi arrendere Ma cosa mi deve arrendere Raga Cosa devo fare? Tu quanti ne hai Di arrendere? 3, 2, 4 1,7 Eh, 7 Ma voi avete preso un batto più di oro di me ragazzi Siamo in due Siamo andavanti da quasi No, un'ora no Però Ho deciso ragazzi Non Non ne posso più Siamo in baro da troppo tempo Io Mi give Gli enderai Spero che non sia un problema Tanto Cioè volevamo già fare che qualche volta insomma con gli enderai Ne ho tre Eeeh Provo a uscire dal portale di loco Sperando che sia notte Vedo di ammazzare qualche Qualche enderman e via Proprio di così Veramente non so cosa fare Davvero non ce la faccio più Giuro non ce la faccio più raga Portale di loco Eeeh Va bene raga Torniamo nell'overworld Voglio trovare land Cioè Facciamo qualcosa Non lo so Non lo so Evviva Tempio oceanico Siamo di notte Dai magari Un enderman me lo riesco ad uccidere No vabbè ragazzi Io vi giuro non ce la Ma scusa ma perché c'è Ma tu non hai visto il tempio oceanico prima No ma ammazzare i guardian Ammazzare i guardian Ah ma scappa via Vola via Ma come Ah è vero che posso volar via Che stupido che sono Dammi le enderai Dammi ste Porca miseria di enderman Me l'ha dato le Dammi le ender Sentite raga Basta Basta E qua sotto E detto loco Andiamo qua sotto Andiamo qua sotto Grazie di avermi aiutato Grazie è tutto Ah no Due ne ho di ender Ok raga Ne ho cinque Ma è possibile trovare Un end portal Con già sette Penso proprio Loco dai Ne avrai un paio Che puoi mettere Dai Facciamo colletta Ma questo Dai io ne ho qualcuno Magari Lo colletta L'ho colletta L'ho colletta Dai va bene Va bene Dai raga tanto ormai Vi ho mazzo Sono disperato Quindi abbiamo vinto noi Per una volta No non avete non avete vinto Non esiste sta cosa E come no E allora lo collaggini Va bene Me li chivo E no È comunque una perdita morale Ricordato Ragazzi io comunque vi ho detto Che si ho capito Ma che ne so Non mi ricordo Che non mi ricordo Fa schifo Vediamoci del drago Che mod survival Io vengo a vedervi Ragazzi sono arreso Sì anche io Dai raga ma pure il ponti Faccio io marci tranquillo Ma che stai facendo Mi sono arreso Ah che bene l'Italia Mi ho dimenticato Stupido forte Dai usa starco E fai vedere chi sei Adesso lo manciotti Teori E non è che non ho lasciato E insomma Beh li tolgo un bel po' Però comunque per me Non l'ho vinta raga Questa sfida Mi dispiace Ha vinto l'ho Ma neanche voi l'avete vinta Ragazzi guardate che l'abbiamo Ma sì ma scusa Ma l'ho persa solo perché Il nostro di 5 Non spawnano le enderpearl Eh vabbè hai perso Ma stai zitto Ma stai zitto guardo Ma se non c'è la mod È una mod migliore Ma posso pure mangiare in aria Che bello Zoom Io non mi esprimo più Mi metto anch'io a volare qui Basta ho deciso Io lo sto accendo con le a Con le litre raga Lo sto però abbassando No no che voglio No no Non puoi prenderlo con l'acqua Non penso Ma che c'ho mezzo cuore Marci Ma che fai Meno male raga Che c'ho l'elizzo Non avevo l'etero morto Ma perché recupera vita ancora Ma c'è un cristallo Ma che cavolo Il cristallo schifoso Vai 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 Che l'ho ucciso Sì Non mi interessa L'ultimo colpo È vivo Ragazzi lo so Che città Mai più Vi giuro Mai più Mai più Mai più Mai più Perché ho la night vision Ma non ho la night vision Infatti vedo tutto strano Ciao Sono morto Oddio Ciao Grazie.